Pronto Enzo? Eccoci, ciao. Buon pomeriggio, Mimmo Biancolas da Vario. Ciao Mimmo, tu c'eri? Io c'ero, sì. Stiamo facendo l'appello, infatti. Ero mancato per due partite, ho detto vabbè andiamo, chissà se cambia qualcosa, ma invece no, mi sono annoiato. Saluto Frisini, che ho dimenticato di salutare. Io sono d'accordissimo con lui per il fatto di rana. Enzo, diciamola tutta, Torrente stamattina c'era un comunicato sulla gazzetta del Corriere dello Sport, che diceva che lui è contento della prestazione dei suoi e ha visto miglioramenti. Ma Torrente dove l'ha vista la partita? Ci stiamo rendendo conto che ieri sembrava fracassi contro Trigianese. Ma c'è un'altra cosa Enzo. Tu dicevi prima della gente allo stadio. La gente come può andare allo stadio, che vede una partita, cioè non vede uno spettacolo, vede una partitella. Seguono altre squadre, tipo quali sì, c'era Mila-Roma, quindi preferiscono vedere Mila-Roma che Bari-Juvespa. Va bene Mimmo, grazie per il tuo intervento. Io penso in un altro modo, nel senso che per me invece la gente dovrebbe sempre comunque andare allo stadio, nel limite del possibile, per carità non devono svenarsi per andare a vedere una partita. Però io sono delle idee che i tifosi, così come tutte le componenti della città, e metto anche la stampa dentro, dovrebbero essere gli artefici del cambiamento. Dovrebbero veramente in questo momento esercitare una pressione molto forte affinché qualcosa cambi. Lo so che la partita non è stata bella, è stata orribile la partita. Io non vedevo l'ora che finisse. Uno perché la partita era veramente pessima di livello. E due perché nei minuti finali ho temuto che la Juve Stavia vincesse, perché è andata molto vicina al gol del vantaggio. Però davvero io credo che noi dovremmo fare tutti quanti la nostra parte. È difficilissimo, mi rendo conto che è difficilissimo che i tifosi avrebbero migliaia motivi per restare a casa, che istintivamente restano a casa perché non si può vedere una partita al San Nicola con 5.000 tifosi presenti, peraltro molti erano della Juve Stavia, perché è di una noia mortale. Allora cerchiamo di fare sopravvivere. Io l'appello che lancio, anche le istituzioni, lo so che in questo momento hanno altri pensieri. Però se si deve andare avanti in questo modo, perché insomma al momento questa sembra la direzione nella quale va il calcio barese, che almeno si riapre della vittoria. Almeno andiamo a soffrire, ma almeno andiamo a vivere qualcosa che sa di genuino o di nostrano. Perché è l'anticalcio, la morte del calcio, il San Nicola, voluto ricordiamo perché dovevamo diventare la Juventus del Sud, per ospitare un bar di Juve Stavia da 5.000 spettatori. Questo deve fare molto riflettere e comunque qualcuno deve fare assolutamente qualcosa. Che si faccia qualcosa perché così il calcio barese muore e sono convinto che di questo passo torneremo, anzi stiamo già vicinissimi ai livelli di Bari Cittadella. Gigi a te il tuo pensiero. Paenzo, io in questo momento non parlo come il vostro amico opinionista, parlo come il vicepresidente del comitato che si è costruito in Mali Bianco e Rosso. Il nostro sogno è adesso a prescindere questi ingressi in tribunale che si farà giovedì e venerdì perché qualche firmatario assente per ragione di lavoro, partirà questa denunzia querela preparata dall'avvocato Siste e dal figliolo con l'aiuto di magistro contro quelli che hanno infangato la maglia del Bari. La seconda iniziativa è quella di cercare di far capire all'opinione pubblica che bisogna tornare allo Stato della Vittoria. Ma l'opinione pubblica l'ha capito, per me sono le istituzioni che si mettono di traverso perché quando mi viene detto che al della Vittoria non si può giocare perché mancano i tornelli, ma si fanno i tornelli. No, no Enzo, forse quello voleva dire che mancano i fornelli perché adesso senza nulla togli a Roma e non sono razzista. Io ho visto l'altro giorno lo Stato della Vittoria alle 4 del mattino perché io faccio il fantasma la notte. Sono andato e ho rivissuto le partite di una volta con la gente strapiena anche in quarta serie. Io la prima partita che ho visto, portata da mio padre e da Elio Preti, grande giornalista della Gazzetta, è stata Italia-Belgio 1-0 che addirittura anche allora, il golo fa molto trastro e se lo frega Boniperti, mi ricordo, 1-0. E lo stadio non potevi respirare. Il Bari anche in quarta serie quando è stato campione d'Italia c'era il campo strapio. Adesso con il vantaggio a livello topografico che c'è la via di sbocco del Porto sarebbe la soluzione ideale, cosa che adesso non voglio capire. Ma alla fine, a prescindere che rimanga la sinistra e la destra, perché io di politica non capisco niente, mi auguro che la nuova amministrazione, anche se viene confermata la linea emiliana, vogliamo ritornare allo Stato della Vittoria. Ma tutti, non solo io. Faremo dei Galzebio in Viasparano appoggiando la tua linea con un referente che ci deve riportare allo Stato della Vittoria. E l'anticalcio, è orribile questa storia della Serie B con 4 mila spettatori al San Nicolà. È veramente la morte del calcio. Quindi datevi una mossa, fate qualcosa, l'opinione pubblica a mio avviso sosterrà questo, perché per carità vanno cambiate tante cose a Bari. A Bari ci vuole la società nuova, ci vuole gente più ambiziosa, gente che ci faccia sognare, via discorrendo. Però, aspettando questo, che almeno si faccia una cosa concreta, un passo, tornare al della Vittoria, perché in questo modo si uccide il calcio a Bari. C'è un amico in linea o no? Torrente allora? Ma andiamo a Torrente, sentiamo cosa ha detto il termine della gara con la Juve Stabia. Noi ci abbiamo provato. Poi dopo è difficile quando incontri una squadra che si difende molto bene, con ordine, una squadra fisica che non concede nulla. Davanti noi avevamo delle assenze importanti, come Caputo, lo stesso Forestieri. Galano, Stoian e Kuduso, un grande impegno, hanno dato tutto, però non era facile. Era una partita che si poteva risolvere su palla inattiva, un qualche tiro da fuori, come è successo nel finale, quando le squadre erano stanche. La Juve Stabia è andata vicina al gol su una palla inattiva. Anche noi, con l'annullato su un palla inattiva, qualche ripartenza, ma non era facile. Ripeto, perché poi la Juve Stabia giocava lanciando sempre la palla in avanti e andando sulle seconde palle. Credo che la Juve Stabia non abbia mai iniziato un'azione da dietro. L'atteggiamento era molto, molto, diciamo, difensivo. La nota positiva oggi è che non abbiamo preso gol, era da tanto, che prendevamo sempre gol. Oggi non l'abbiamo preso con una difesa rimaneggiata. Questo è un aspetto positivo. Ma non si aspettava qualcosa in più sul piano della voglia, della determinazione proprio? L'aveva chiesto anche alla vigilia. Oggi per me è stata positiva. Forse è venuta meno a Empoli nel secondo tempo. Oggi i ragazzi ci hanno provato fino alla fine. Ripeto, ma con una squadra così fisica era difficile. Ci poteva essere una giocata di un singolo come Stojan, Galano, nell'uno contro uno o qualche situazione di palla inattiva. Dime che possa subentrare un po' di appagamento nel gruppo. No, anche perché noi dobbiamo intanto centrare l'obiettivo dei 50, 51 punti. E poi, come vi ho già detto tantissime volte, ormai c'è l'analisi. I conti li facciamo alla fine. Ti piacerebbe fare uno sgambetto a Zeman? Più che altro a Pescara. Non è Torrente contro Zeman, è Pescara-Bari. Mi piacerebbe battere il Pescara, come oggi avrebbe fatto piacere battere la Juve Sabia.